Buonasera, benvenuti a una nuova edizione del Tg6. In apertura alla cronaca, incidente aereo, oggi pomeriggio a Corropoli, un ultraleggero con a bordo due persone di cittadinanza tedesca è precipitato in fase di decollo dalla Val Vibrata. Il velivolo era arrivato questa mattina, decollato da Catania al servizio. Terrore nei cieli a Corropoli, in provincia di Teramo. Nel primo pomeriggio di oggi un aereo ultraleggero è precipitato in località Brenta. A bordo due persone di nazionalità tedesca, di 51 e 57 anni, che sono stati trasportati nell'isoccorso agli ospedali di Pescara e Teramo, dove sono ricoverati in codice rosso. I due hanno riportato traumi e fratture e sarebbero in gravi condizioni. In ospedale uno dei feriti avrebbe subito l'amputazione di una gamba e di un piede. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire l'accaduto e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta. Come appurato, il biposto ha avuto problemi tecnici nella fase di decollo dall'Avioclub Val Vibrata, ha perso quota e si è schiantato al suolo, dove i due a bordo sono rimasti incastrati tra i rottami fino all'intervento dei vigili del fuoco. Il velivolo è andato distrutto, ma come si vede nelle immagini fornite da City Rumor, fortunatamente non ha preso fuoco. Apriamo ora la pagina dedicata al Covid con il consueto bollettino sull'andamento della pandemia in Abruzzo. Un brusco aumento di nuovi casi di Covid in Abruzzo, quelli accertati con i test nelle ultime ore. Sono 141 e da due mesi e mezzo, dal 14 maggio, che non si registrava un dato così alto, ed è dallo stesso periodo di tempo che in Regione non si superava quota 100 contagi. Quasi un terzo dei nuovi casi riguarda l'area metropolitana pescarese. Più della metà dei positivi recenti hanno meno di 30 anni. Aumentano lievemente i ricoveri che passano dai 24 di ieri ai 26 di oggi. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 4073 tamponi molecolari. Il risultato positivo è il 3,46% dei campioni, eseguiti anche 2.134 test antigenici. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 86 anni. La località con più nuovi casi è Pescara, ne sono 17, seguita dall'Aquila e Montesilvano, rispettivamente i nuovi casi. Sono 15 a livello provinciale. L'incremento più consistente si registra nella Pescarese, più 51, seguito dal Chietino, più 32, dall'Aquilano, più 27, dal Teramano, più 25. Alla luce dei dati odierni, l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti aumenta di 6 punti e passa da 28 a 34. A livello territoriale, in testa per incidenza, c'è la provincia di Pescara, con un dato che aumenta di 8 punti in 24 ore, e arriva a 47. Ogni 100.000 abitanti seguono il Teramano, l'incidenza a 30, l'Aquilano a 28, il Chietino a 27. Il tasto di ospedalizzazione però resta lontano dalle soglie di allarme. È allo 0% per le terapie intensive e al 2% in area medica. Infatti le 26 persone attualmente ricoverate per Covid sono tutte in area non critica, sono 2 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 1.299 nella nostra regione, 99 in più rispetto a ieri. In aumento anche i pazienti in isolamento domiciliare, che sono 1.273, 97 in più rispetto a ieri. I guariti delle ultime 24 ore sono 42, non si registrano decessi, il bilancio delle vittime rimane quindi fermo a 2.514. Intanto nelle prossime ore sono attesi nuovi vaccini a Pescara, lo ha detto l'assessore comunale alla protezione civile Eugenio Seccia, che assicura che si lavorerà per evitare rallentamenti nella campagna vaccinale. Paolo Renzetti. Questo boom c'è stato, oggi stesso mi ha comunicato la ASL che sostanzialmente stanno dando prevalenza e il via libera a coloro che stanno facendo le seconde dosi, rallentando quindi le prime dosi perché ovviamente c'è anche una carenza di vaccini che dovrebbero arrivare oggi, quindi questo rallentamento delle prime dosi da parte di coloro che sono stati un po' ritardatati, diciamo così, in vista della scadenza del 6 agosto, saranno soddisfatti nei prossimi giorni. Noi siamo sempre attenti ed accorti, abbiamo dato disponibilità alla ASL dell'Uomini della Protezione Civile e dei Vigili Urbani a presidiare il centro vaccinale di Via Tirino insieme anche a 15 operatori del Reggio di Cittadinanza, quindi siamo in gran forza. Il tutto è subordinato al collo di bottiglia vero della campagna vaccinale che sono ovviamente le dosi dei vaccini che oggi ci dicono che saranno fornite e riprenderà di forte lena la somministrazione anche durante il mese di agosto. Non è escluso che ad agosto sia aperto anche del pomeriggio, però questo lo valuteremo nei prossimi giorni insieme alla ASL perché vogliamo meglio gestire le forze in campo, soprattutto quelle umane che ovviamente sono impegnate, ve lo ricordo, dapprima con la campagna di screening e ora con le somministrazioni vaccinali. Quindi una volta stabilito il flusso dei vaccini cercheremo anche di ampliare eventualmente se serve l'orario. L'assessore regionale alla sanità ha detto che però non ci sarà ad agosto nessun rallentamento, si andrà avanti così. Ce l'auguriamo, è quello che chiediamo noi come amministrazione comunale di Pescara perché abbiamo investito da subito risorse e uomini per effettuare questa vaccinazione perché crediamo fortemente nella vaccinazione di massa della cittadinanza di Pescara e di tutti coloro che ruotano intorno alla città. Quindi vogliamo che il prima possibile siano vaccinati tutte le persone e stiamo impegnandoci per questo e non ci tiriamo indietro se dobbiamo mettere in campo altre forze, ma ovviamente sono più che sufficienti quelle che abbiamo messo. Ripeto che il collo di bottiglia di questa campagna è la quantità di vaccini che arrivano a Pescara. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. 30 luglio sarà sciopero nazionale del settore metalmeccanico. Nel Terramano le segreterie provinciali di FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will organizzeranno la marcia per il lavoro che partirà alle 19 da Largo Madonna delle Grazie per poi arrivare in Piazza Martiri dove è previsto anche un presidio, il servizio. Abbiamo deciso di fare una marcia per il lavoro unendo le lavoratrici e i lavoratori del settore metalmeccanico rispetto a una situazione insostenibile di una mancanza di programmazione per il rilancio di quest'area terramana che viene contraddistinta da avvertenze ormai ferme da troppo tempo con epiloghi sempre negativi. Abbiamo la necessità e rivendichiamo di una programmazione seria che ponga al centro il lavoro, il lavoro buono, non con del lavoro applicando contratti gialli che mina la tutela dei lavoratori e in particolare un lavoro in sicurezza perché riteniamo che sono due argomenti che non possono essere scinti. È una marcia per il lavoro, una sorta di passeggiata che faremo e comunque è l'unica che si ha in tutta Italia appunto per rimarcare le problematiche del territorio terramano in cui le pertenze sospese come la TR, come la VECO, come la SELTA che addirittura abbiamo un incontro con la nuova proprietà, quanto pare la SELTA sia stata ceduta alla digital platform, quindi venerdì mattina tra l'altro avremo un incontro telematico con questi signori per l'esame congiunto. Lo sblocco di licenziamenti per il momento a Teramo non sta atticchendo tanto, il motivo è semplice, perché stanno pagando le conseguenze tutti quei lavoratori interinali a tempo determinato a cui non sono stati rinnovati i contratti e ne sono tantissimi, si stima solo nel settore metallo-meccanico due trecento non rinnovi di contratto, quindi sono l'anticamera dei licenziamenti che avverranno a mio avviso nel prossimo autunno, se non si interverrà immediatamente con nuovi ammortizzatori sociali, nuove risorse e con politiche attive del lavoro. Se contiamo la beta pensi di Tortoreto, che comunque è in stand-by, anche se con l'ammortizzatore sociale, se contiamo la SELTA, se contiamo la TR, se contiamo la VECO, siamo all'incirca intorno alle 300 unità, solo di queste vertenze. Noi abbiamo nel settore invece dell'automotive una situazione che non è problematica, che attualmente ci dicono che è un settore che sta bene, che addirittura ha necessità di avere e di ampliare l'occupazione, che addirittura non si trovano competenze adeguate per il settore. Allora quello che noi diciamo è questo, prima cosa stabilizziamo le lavoratrici e i lavoratori dentro le fabbriche, perché attualmente ci sono tanti lavoratori interinali, quindi cerchiamo di evitare la frammentazione del lavoro che porta con sé tante differenze, ma soprattutto ripensiamo alle politiche industriali, facciamo davvero politiche industriali, non parliamo di lavoro solo ed esclusivamente quando si parla di vertenza. La politica si sono federati, i gruppi Udc e Amare Pescara presenti in Consiglio Comunale a siglare l'accordo oggi i segretari nazionale e regionale dell'Udc, Cesa e Di Giuseppe Antonio. Segretario, cresce l'Udc in Abruzzo, cresce l'Udc a Pescara, oggi viene sancita questa unione, questa federazione con Amare Pescara, con il consigliere Berardino Fiorillo. Sì, è un'iniziativa straordinaria che mette insieme persone che la pensano allo stesso modo e che fanno riferimento a un'area culturale che ha fatto grande questo paese, la democrazia cristiana. Bisogna riunire queste forze, lo stiamo facendo non solo a Pescara ma in tutta Italia, penso che questo sia un grande servizio al paese. Il tempo delle rendite è finito, torna la buona politica, quella che serve soprattutto a risolvere i problemi dei cittadini e a far funzionare un paese, a far funzionare una regione, a far funzionare le amministrazioni locali italiane. Perché dico questo? Perché Berardino è stato vice sindaco, una persona impegnata nel sociale che ha grandi qualità, viene a ricostruire un percorso del centro nella politica abruzzese senza rendite, solamente con la passione per la politica. Si lavora, ho sempre lavorato, come mi conoscete bene sono un uomo di squadra, per cui lavoro per il partito, lavoro per la gente, lavoro per la mia città e ovviamente questo è un primo mattoncino che noi mettiamo, con Berardino che io stimo ormai da una vita. Abbiamo già iniziato a collaborare da subito all'interno del Consiglio Comunale perché i nostri intendi sono sempre quelli cattolici democratici di aiuto alle persone bisognose. Quindi ci siamo aiutati a vicenda e oggi sfocia in questa bellissima giornata. Sono contento perché a benedire questa cosa il segretario nazionale del partito considerando anche che siamo ancora purtroppo in piena pandemia quindi lo ringrazio personalmente per essere intervenuto. È chiaro che acquisendo un altro consigliere vi posso preannunciare che già in trattativa il Presidente con un altro consigliere che vorrebbe abbracciare anche il nostro discorso politico. Io penso che poi il segretario nazionale all'interno con gli organi ufficiali deve rivedere un po' anche la scuola di governo della città e valutare le opportunazioni. Un percorso nato naturalmente, devo dire la verità, nato innanzitutto dal rapporto d'amicizia con Mastegliano Pignola e poi dai comuni valori che ci accomunano, scusa del gioco di parole, che sono quelli sicuramente del sociale. Abbiamo iniziato a lavorare insieme in Consiglio Comunale per quelle cose che ci sembrano più importanti grazie anche all'assessore Dinizio che rappresenta oggi parte del sociale in Comune di Pescara. Condividendo queste cose abbiamo deciso di fare questa federazione perché per noi è importante avere anche più forze in politica contano i numeri, ma mai come in questo caso ci sono affinità di idee come unioni di intenti che ci permettono di cominciare a lavorare insieme in maniera fattiva. Manterremo i gruppi distinti in Consiglio Comunale per un fatto tecnico-organizzativo, ma anche per un rispetto all'elettorato, ma di fatto saremo una voce unica in Consiglio Comunale. Una voce unica che chiede al Sindaco Masci ora maggiore spazio? No, non è questo il problema. Chiediamo maggiore attenzione, ma crediamo che la Giunta sia già lavorando bene per questo sul tema del sociale. Saremo un po' il pungolo di attenzione, di stimolo alla Giunta, al Sindaco, all'amministrazione su alcuni temi. L'amministrazione è formata da tante forze politiche con diverse sensibilità. Noi vogliamo essere quella con più attenzione al sociale, ma soprattutto anche ai valori moderati che crediamo di rappresentare. Mai come in questo momento ci bisogna di una politica che non gridi gli umori di pancia stati dai social network, ma che dia delle direzioni di soluzioni che magari in quel momento possono anche non accontentare l'elettorato, perché si parla sempre di elettorato, ma soddissi soprattutto i cittadini. In vista delle prossime elezioni amministrative, che vede coinvolto anche il Comune di Sulmona, e proprio a Sulmona il coordinatore della Lega della provincia dell'Aquila Tiziano Genovesi sostiene la candidatura dell'Avvocato Vittorio Masci. Il servizio è a cura della redazione di Infomedia. A Sulmona serviva una persona di spessore e moralità per ridare vita ad un territorio ormai in ginocchio, depresso da un civismo che non funziona. È questo il primo commento del coordinatore della Lega della provincia dell'Aquila Tiziano Genovesi, a seguito della candidatura a sindaco di Sulmona di Vittorio Masci, noto avvocato dell'area Peligna, che guiderà il centrodestra alle prossime amministrative. I giorni scorsi c'è stata la quadra, il territorio si è autodeterminato sulla scelta del candidato sindaco di Sulmona, la scelta è ricaduta in quota Fratelli d'Italia, quindi hanno espresso l'Avvocato Masci come candidato sindaco. È la persona giusta che può ridare vita a un territorio che è un territorio depresso. Sulmona viene da un periodo di civismo che ha generato il deserto. Tra l'altro qualcuno si è sentito anche piccato del mio sostegno a Masci, si sono sentiti colpiti nell'orgoglio evidentemente, ma chi vive Sulmona, chi gira Sulmona, io non la vivo, ma ci vado spesso e ci sono andato spesso nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, vede la situazione nella quale vive Sulmona. Continuano a perpetrare un civismo, un civismo a tutti i costi e non hanno capito e non stanno capendo che senza una politica, senza la vera politica, senza quella politica della filiera, tutte le problematiche dei territori non verranno risolte. Tanto vero è che la sindaca, che è civica, è dovuta andare in giro per il Parlamento per cercare di trovare sponde per la salvaguardia del Tribunale. Per Genovesi dunque, alla base della debacle di Sulmona, ma anche di Avezzano, ci sarebbe proprio il civismo esasperato. In più sul capoluogo marsicano pende, spiega il leghista, la spada di Damocle della sospensione del sindaco, che avrà inevitabili effetti negativi sull'amministrazione della città. Pesa tantissimo, se solo pensiamo che nell'ultima campagna elettorale, non più di 9-10 mesi fa, Gianni Di Pangrazio veniva etichettato come l'uomo dalle grandi competenze, evidentemente venendo meno l'uomo delle grandi competenze, vengono meno le competenze, ma non lo dice Tiziano Genovesi, lo dice il Comune stesso, in una nota stampa per l'avvertenza IRIM, nella quale uno degli assessori della giunta di Pangrazio dice che senza l'apporto del grande sindaco di Pangrazio, senza la grandissima esperienza del sindaco di Pangrazio, non sarebbe mai addivenuto ad una risoluzione. I vertici provinciali del PD chiedono chiarezza alla provincia di Pescara in merito alla demolizione del liceo Marconi, vediamo il servizio. Questa mattina avete deciso di convocare questa conferenza stampa come Partito Democratico Provinciale di Pescara per fare un po' di chiarezza, ma chiedere anche un po' di chiarezza evidentemente. Sì, un tavolo tecnico con le parti sociali, cioè con i rappresentanti dei genitori, dei studenti, dei docenti, del personale amministrativo rappresentato da Dottoressa Bianco, RSU, cioè il PD fa il suo lavoro e mette giù un tavolo tecnico permanente da oggi in poi finché non avremo risposte chiare da parte del Presidente della provincia. Questa mancanza di trasparenza a pochi giorni, perché tra un mese i docenti, noi docenti, io sono anche un docente proprio del liceo Marconi, dobbiamo rientrare in servizio più o meno intorno alla fine del mese di agosto e non sappiamo dove dobbiamo andare. Si deve insediare una nuova dirigente scolastica e non sa dove potrà finalmente convocare il primo collegio docenti. Quindi è un pastrocchio amministrativo che non ha fine. L'unica certezza è però che lo stabile dove si trova attualmente il Marconi dovrà essere demolito. Ma questa è un'altra certezza da vedere. Come sapete due o tre docenti qualificati del liceo Marconi hanno fatto un lavoro molto minuzioso di perizie tecniche e hanno presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica. Noi ci aspettiamo anche con il PD che ci sia un'attenzione su questa denuncia per capire se effettivamente questo edificio debba essere demolito o meno. Non siamo noi a doverlo dire ma ci aspettiamo delle risposte concrete anche perché bisogna dire che la reazione tecnica della provincia che è datata al 2020 e quindi parla di instabilità sismica grave in qualche modo impone a pensare che la provincia ha fatto stare un'intera comità scolastica cioè 2.000 persone per un anno intero con un rischio serio. Quindi si è assunta anche una responsabilità importante. Questo nessuno lo dice ma la reazione tecnica è del 2020. L'anno scolastico 2020-2021 l'abbiamo passato lì. Il Comitato Covadis chiede questa interlocuzione da ormai da mesi. Questa interrogazione è stata negata. Il Presidente non si è nemmeno presentato al Consiglio Comunale straordinario richiesto appunto dal centro-sinistra il 6 di luglio. Ha mandato una lettera al 6 di luglio dicendo che a pochi giorni avrebbe avuto delle risposte. Oggi è il 28 luglio. Non c'è lo straccio di una proposta se non quella di alcune aule di Marzio che devono essere però anch'esse ristrutturate per accogliere i ragazzi. La pagina della cultura si chiama Accendiamo il Medioevo. L'iniziativa curata dallo storico Licio di Biase è che si terrà ad agosto con diversi appuntamenti in più comuni d'Abruzzo. Vediamo il servizio. Domani sera parte un importante appuntamento con diverse serate in questa estate. Accendiamo il Medioevo. Un evento che lei ha voluto fortemente. Terza edizione, 12 comuni, 24 serate, 53 eventi, tra cui la partecipazione di Mario Tozzi, Vittorio Sgarbi, Marcello Masio, Saldo Bevilacqua, Federico Mocce e tanti altri personaggi per recuperare e valorizzare il nostro patrimonio medievale. Poi ci saranno Vincenzo Livieri, Piero Mazzocchetti, insomma tantissimi, ma tutti nei luoghi del Medioevo della nostra provincia. Quindi sarà sicuramente un evento di grande richiamo. Ma proprio quello di pensare alla valorizzazione e all'esaltazione del nostro patrimonio medievale molte volte trascurata, ecco, tra cui per fortuna in questi ultimi giorni, in questi ultimi giorni abbiamo notato che la Basia di San Clemente a Casauro è riaperto, quindi vuol dire che nel nostro piccolo abbiamo spinto anche per questa piccola cosa. Si intitola Per una psicologia del creato, il libro di Augusto Di Stanislao che verrà presentato domani, giovedì 29 luglio alle ore 18 nel giardino di Torre del Cerrano a Pineto nell'ambito della rassegna Caffè Letterario del Cerrano. Il libro si concentra sulle prospettive di ricerca e di intervento della psicologia a favore di uno sviluppo locale e globale fondato sul rispetto delle esigenze di conservazione del patrimonio naturale. Stefano Recanati. Per una psicologia del creato, il libro che verrà presentato domani presso la Torre di Cerrano, la psicologia con la natura, in che senso? Nel senso che noi dobbiamo assolutamente recuperare un rapporto organico, concreto e reale con la natura, non solo nel dire ma anche nel fare, quindi il libro si occupa di una nuova direttrice in campo nazionale che io porto avanti, che è quello di cominciare a spostare l'asse dell'interesse tra persona e persona, ma tra persona e ambiente naturale, che significa cambiare il paradigma dei rapporti con la natura, cominciare a preoccuparsi di questa nuova relazione che ha una dimensione che è cognitiva, che è relazionale, che è individuale, ma che è anche collettiva e di comunità. Quindi devo dire che questo appuntamento alla Torre di Cerrano, grazie anche al sindaco che l'ha voluto fortemente, è un appuntamento non solo di natura culturale, ma che comincia a mettere insieme una serie di elementi che sono gli atteggiamenti, i comportamenti, gli stili di vita per cambiare tutto quello che il genere umano deve fare, non solo per entrare in relazione, ma per tutelare e salvaguardare la natura. Ed evitare catastrofi che avvengono sempre più frequenti negli ultimi anni. Sì, una delle cose paradossali è quando si sentono i telegiornali ultimamente, si parla di inquinamento, si parla di cambiamenti climatici e si attribuiscono sempre ai disastri naturali e ambientali. Il tema è del disastro che è generato dall'essere umano che non sa più che cosa vuole dallo sfruttamento della natura e la natura cede e molto probabilmente si riprende anche il suo quando fa le inondazioni, quando fa una serie di elementi che per noi sono incomprensibili, ma per la natura invece riprende il suo corso che è stato impossibilitato negli ultimi cento anni, molto probabilmente anche di più. Quindi il tema qual è? È la salvaguardia, la tutela, ma entrare in una nuova relazione che è una relazione di rispetto, come se fosse un essere umano e quindi passare dal tema dell'antropocentrismo, quindi dell'uomo al centro di tutto, all'ecocentrismo dove la natura in relazione con l'uomo riprende il suo posto. Prima di pensare alla transizione ecologica bisogna pensare ad una transizione psicologica perché se non c'è un impossessarsi di questi temi, farlo proprio, viverlo, farlo vivere in famiglia, nelle comunità, nelle istituzioni e soprattutto a partire dalla scuola, molto probabilmente questi elementi non si affermeranno mai come elemento che saranno non solo di tutela ma di qualità della vita. Questa mattina a Pescara l'amministrazione comunale ha premiato l'atleta Giulia Di Clemente, tesserata all'associazione sportiva dilettantistica Boxing Nucci e successivamente ha presentato il campionato italiano di skateboard che si svolgerà nello skatepark del posto turistico ovviamente a Pescara. Vediamo. Pescara si conferma una città sempre più a vocazione sportiva. Tanti gli appuntamenti sportivi nel capologo adriatico in questa lunga estate, tra questi il campionato italiano di skateboard, assessore. Assolutamente sì, la prima volta in Abruzzo, la prima volta a Pescara, il 31 luglio e il 1 agosto ospiterà il campionato italiano di skateboard. Per la precisione è una tappa nazionale del circuito skateboard, disciplina street, veramente importante per la città di Pescara che è sempre più aperta alle nuove discipline che oggi sono sempre più adatte ai ragazzi, alla nuova generazione e soprattutto ai teenager. Il campionato italiano di skate verrà disputato nel parco skate pubblico cittadino all'interno del potto turistico Marina di Pescara. È un posto incantevole che darà la possibilità a tutti i ragazzi di Pescara ma soprattutto a tutti i ragazzi provenienti dal territorio nazionale di usufruire di un impianto che l'amministrazione comunale ha creato da circa un anno e mezzo. Questa mattina anche la premiazione di un atleta che pratica gym box, assessore? Abbiamo avuto l'onore di premiare Giulia Di Clemente, una ragazza di solo 23 anni che nonostante il momento storico così difficile è riuscita ad ottenere risultati strepinosi, campionessa italiana di gym box. Giulia Di Clemente è premiata oggi a Palazzo di Città Pescara come atleta di gym box, un bel riconoscimento Giulia? Sì, anche se in questo periodo particolare devo dire che ottenere questo risultato è stato molto soddisfacente. Una premiazione qui in comune per te che sei giovanissima, come mai hai scelto di praticare questa disciplina? Perché mi ha sempre appassionato soprattutto la mentalità di questo sport che appunto è costanza, determinazione e soprattutto anche senza del sacrificio e quindi ho scelto per questa disciplina. Gym box che si differenzia dalla box classica perché vogliamo spiegare quali sono le differenze? Diciamo che viene valutata più la tecnica, la velocità piuttosto che un KO e quindi diciamo si differenzia per questo. Nella nostra città la partecipazione è sempre massiccia perché appunto si viene volentieri al centro dell'Italia, si raggiunge facilmente e poi è ospitale, è una città che ha tutte le caratteristiche per organizzare manifestazioni di altissimo livello. Questa mattina abbiamo premiato appunto questa ragazza, meritevole di ogni attenzione. Il pugilato femminile è avanti attualmente, se pensiamo che alle Olimpiadi ci sono 5 atletesse pugili e nessun maschio, questo è significativo del livello raggiunto dal pugilato femminile, quindi un caloroso in bocca al lupo a lei che possa ottenere i migliori risultati. È un caloroso in bocca al lupo all'organizzazione di questo importante evento che ci sarà a Pescara il 31 luglio e il 1 agosto, che è una tappa di qualificazione per i campionati italiani, ma già mi dicono che c'è un numero esorbitante di iscritti, più dicendo. E con questa notizia apriamo la pagina dello sport, parliamo di calcio. Terminato il ritiro a Palena, i Biancazzurri di Gaetano Teri proseguiranno la preparazione in sede da venerdì con seduta pomeridiana dopo due giorni di riposo. Sul fronte mercato la priorità diventa quella che riguarda le uscite. In partenza Sorensen, Valdifiori e Galano. Partiranno anche Di Grazia, richiesto dal Foggia, e Belloni, finito nel mirino del ripescato Picerno. Intanto il centrocampista Derisio, inseguito per settimane dal Delfino e sul punto di firmare in B con il Cosenza, la società ha fissato una nuova amichevole il 6 agosto alle 18 a Penne, dove il Pescara sarà di scena con la squadra della città. La partita, oltre a rimarcare l'amicizia tra le società e l'importanza della valorizzazione del territorio, sarà anche l'occasione per inaugurare la riqualificazione dello stadio Fernando Calangelo, una struttura strategica per la città vestina, punto di riferimento importante per le realtà sportive locali. L'ingresso degli spettatori sarà possibile sino all'esaurimento dei posti nel rispetto delle normative ministeriali anti-Covid. Andiamo ora in Casa Teramo. Federico Guidi è il nuovo allenatore del Diavolo per la stagione 2021-2022. Fiorentino di origine, il 44enne neomister del Teramo, ha approcciato alla carriera da guida tecnica nelle giovanili di club importanti, all'Empoli nelle formazioni giovanissime ed allievi e successivamente nella Fiorentina, in particolare in un triennio con la primavera dal 2014 al 2017, ricco di successi, che lo fa approdare in azzurro nelle rappresentative Under-19 e Under-20, prima della doppia esperienza in Lega Pro a Gubbio nell'annata 2019-2020 e nell'annata sportiva appena archiviata nelle fila della Casertana con cui ottene il raggiungimento dei play-off. Guidi sarà accompagnato a Teramo dal seguente staff tecnico Andrea Cupi e l'allenatore in seconda, Domenico Melino, il preparatore atletico, mentre il ruolo di allenatore dei portieri è affidato a Giovanni Di Fiore. Mister Guidi verrà ufficialmente presentato in media domani, giovedì 29 luglio alle 12, presso la sala stampa dello Stadio Bonolis. Contestualmente la società Biancorossa rende noto come richiesto dal rigido protocollo sanitario vigente per i club professionistici e già pianificato per tempo mediante l'attivazione di un adeguato piano operativo gestionale con la prima seduta del rinnovo staff tecnico. Sarà possibile assistere agli allenamenti pomeridiani della prima squadra allo Stadio Bonolis con modalità tecniche che verranno rese note nel corso delle prossime ore. E a proposito dei Biancorossi, Nigel Kiermateng sarà nuovamente un giocatore del Teramo Calcio. L'attaccante classe 2000 si è legato contrattualmente al sodalizio a Prutino fino al 30 giugno prossimo con opzione per altre due stagioni. Dall'ultima partita di playoff contro il Palermo a oggi praticamente non ci sono state diciamo suddivisioni o strade differenti. È come se non fossi mai andato via. L'anno scorso qua mi sono trovato bene, mi hanno aiutato da subito, ora è anche più semplice perché gran parte del gruppo è rimasto invariato quindi mi sento a mio agio. Sicuramente mettere qualche palla in porta in più, ovviamente essere sempre a disposizione della squadra e dare il meglio che posso dare. La stagione scorsa ho avuto un paio di lacune e diciamo in linea generica un po' dappertutto perché non sono sicuramente un giocatore affermato nella categoria ma ho ancora molto da dimostrare. Sono molto contento di questo, ringrazio tutta la società per la fiducia, il direttore Musa, il presidente Iachini e tutto lo staff comunque che verrà se mi darà la possibilità di esprimermi al meglio. Termina qui questa edizione del TG6. I servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito, una buona serata.